20 anni di centroservizi volontariato che verranno celebrati con degli eventi in tutta la provincia. Castel di Sangro il 15 settembre, il 16 a Sulmona, L'Aquila e Avezzano con il gran finale nel capoluogo di regione alla Casa del Volontariato. 20 anni di iniziative, di percorsi e progetti, di persone, esperienze ed emozioni. Abbiamo deciso di festeggiare 20 anni perché sono una tappa importante per il CSV della provincia dell'Aquila. faremo iniziative all'Aquila, ad Avezzano, a Sulmona, a Cassel di Sangro, che sono i luoghi dove noi abbiamo i nostri sportelli, dove eroghiamo servizi su tutta la provincia dell'Aquila. 60 associazioni socie del CSV e tanti progetti approvati anche per quel che riguarda il servizio civile, aspetto molto importante che il CSV dell'Aquila ha privilegiato rispetto ad altri centri. Una parte molto importante del vostro lavoro riguarda il servizio civile, sono stati approvati tanti progetti, quindi è una parte fondamentale con tanti giovani che poi si avvicinano a voi e hanno l'opportunità di lavorare, di contribuire. Sì, questa è stata una scelta del CSV dell'Aquila, a differenza di altri centri di servizio volontariato d'Italia, perché abbiamo voluto puntare sulla formazione dei giovani, sulla possibilità di dare a tanti giovani questa occasione di fare servizio civile volontario e soprattutto perché danno una mano sia alle associazioni di volontariato, ma abbiamo presentato molti progetti anche per i comuni, perché va valorizzato quello che è appunto il bene comune e quindi attraverso il servizio civile possiamo fare tutta una serie di progetti di valorizzazione dei beni comuni.